Ma quanto fanno signorini qua stasera? Siete bellissime, ciao, ciao. Mi moziona davanti a queste signorine, mi tremo da me capire. Ma mi piacciono, ma mi sono? E adesso, scusami di portare. Vogliamo evitare il nostro pubblico, non quella pensione? No, 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 facciamo più un giochino. Un giochino? Va bene. Ma non è quello, è stupido che mi tirassi la macchina. No, non è quello, è molto semplice. Stai attento. Allora, metto la mano così, poi la giro lentamente e metti la dita così. Ehm, stai a capire, non lo sentate che si stupide i gengini. E adesso non piacere, ci stanno le ragazze. Grazie. Aio, allora. Vogliamo evitare questo pubblico con quella bella canzone? Che, ma che ti imparai quando devo fare il seguito del torre? Ehm, te pu... Dai, maestro. Maestro, maestro, maestro? Maestro, dove sei, maestro? Pronto? Guarda, maestro. Grazie. 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 Grazie a tutti.